Sì, vedi qua, ed è lì nell'angolo, vedi che stanno ampeggiando, sta registrando. E poi come ho fatto lo scarichi, scusa, come fai a togliere? Adesso ti faccio vedere, allora così adesso, l'ho preso in Cina. In Cina? Sì, andate in vacanza in Cina. No, l'ha fatta arrivare dalla Cina. Oh raga, andate in vacanza in Cina che ci sono questi occhiali magnifici. Funziona, no? Hanno la legge davanti, se non sbaglio, qua, così dove guardi lo riprende. Sì, sì, vedi, hai visto. Ce l'hanno proprio davanti, io l'avevo visto. Comunque giri per forza, vedi? Figato. Ciao. Sono un amico suo. Quello che è andato a cagare al cesso. Sei mica riprendendo. Oh, bastardo. Vuoi che c'è una chiavetta, tipo una memoria? C'è la memoria del telefono, ti faccio vedere. Guarda che... Sei cinesi, eh. Comunque... Ma è tuo? È mio, è mio. André, ti ha superato, eh, stavolta. E' troppo avanti. E' troppo avanti, non riesco a spegnere, è bello è quello. Ho un problema, è questo. Funzionano affinché vanno, poi basta. No, no, funziona, funziona. Sì. Vai, Massimo. No, no, è... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.